Allora, buonasera a tutti. Una brevissima considerazione. Qui ci sono gli studenti di ingegneria chimica e di ingegneria biomedica. Questo seminario riguarderà il ruolo del metabolismo nel cancro. Parte dell'attività sperimentale che vedrete è stata condotta su dei bioreattori, ambienti di reazione che dovrebbero essere familiari perché avete avuto l'opportunità di studiare. Li state studiando nel corso di ingegneria delle reazioni chimiche e nei bioreattori con professor Cinconti. Quindi questa mi sembra un'ottima opportunità per vedere alcune delle applicazioni legate agli ambienti di reazione. Spero mi sentiate. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Giada e mi occupo di Air Campus, che è il progetto di Fondazione AIRC dedicato agli studenti universitari. Vi segnalo appunto che registreremo la lezione perché ci piacerebbe caricare poi questo contributo sul nostro canale YouTube AIRC Education. Io desidero prendermi veramente qualche minuto per parlarvi della fondazione perché molte volte il nome è noto ma non tutti sanno effettivamente di che cosa si occupi. Fondazione AIRC nasce nel 1965 e da più di 50 anni l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di cercare di rendere il cancro sempre più curabile. E per farlo AIRC segue due percorsi. Da una parte finanza la migliore ricerca oncologica e dall'altra si occupa di fare corretta divulgazione scientifica. Questo per darvi un riferimento numerico. Nel 2023 sono stati destinati alla ricerca oltre 137 milioni di euro, che sono stati utilizzati nello specifico a finanziare 704 progetti di ricerca, 91 borse di studio e 21 programmi speciali. Come vi dicevo però la divulgazione è fondamentale. Pensiamo sia importantissimo raccontare i risultati raggiunti dalla ricerca e soprattutto fare corretta divulgazione scientifica. Questo perché sapete meglio di me quanto sia complesso districarsi tra le fonti e soprattutto quando si parla di salute e soprattutto di oncologia diventa ancora più complicato. E questa è la ragione per cui nel corso del tempo sono nati progetti molto diversi tra loro. Abbiamo per esempio il nostro House Organ che è la nostra rivista fondamentale, il nostro sito AIRC dove potete trovare informazioni sulla fondazione e sulle varie attività che svolgiamo. Abbiamo più di 15 mila scuole coinvolte e poi abbiamo due canali social, uno che è AIRC e l'altro è Wonder Why. Wonder Why nello specifico si occupa di scienza a 360 gradi, quindi non si occupa solo di quella che è la tematica oncologica. Io lascerò poi le slide al vostro docente e se qualcuno appunto avesse interesse a seguire la pagina trovate qui il riferimento. E poi arriviamo a quello che è il progetto Air Campus. Il progetto Air Campus nasce nel 2016 e l'idea è quella di rivolgersi agli studenti universitari, quindi intercettandoli direttamente nelle aule e portando dei contenuti però che siano in linea con il loro piano di studi. E questa è la ragione per cui avete qui oggi appunto il professor Mitro. Come vi dicevo però la vera forza di AIRC sono le persone. Abbiamo più di 6 mila ricercatori finanziati, abbiamo più di 4 milioni di sostenitori senza cui AIRC non potrebbe essere AIRC, ma soprattutto abbiamo più di 20 mila volontari. Noi pensiamo fortemente che ciascuno di voi per quella che è la propria esperienza personale abbia sviluppato nel corso del tempo una maggiore sensibilità verso differenti tematiche. Noi ovviamente nello specifico ci occupiamo di salute, quindi di oncologia e prevenzione. E se qualcuno di voi fosse interessato ad entrare nella nostra squadra di volontari, ovviamente ne siamo più che entusiasti. Considerate che svolgiamo diverse iniziative, soprattutto nelle piazze. Questa settimana saremo in piazza per la distribuzione della zalea della ricerca, in occasione della festa della mamma. Ci troverete anche qui in università per la distribuzione. Quindi se qualcuno di voi appunto fosse interessato a noi fa solo che piacere. Potreste diventare però anche supporter tramite i vostri canali social oppure aprendo la vostra pagina di raccolta fondi su Rete del Dono. Quindi in realtà le possibilità sono molteplici. Ecco, se voleste appunto candidarvi il riferimento è generazioneairc.it. Vi lascio anche il riferimento del comitato AIRC Sardegna, perché AIRC ha la fortuna di avere 17 comitati regionali, attraverso cui è possibile organizzare i vari eventi a livello nazionale, per cui ad esempio la zalea della ricerca a maggio, ma abbiamo ad esempio a gennaio le rance della salute. Quindi diverse iniziative nel corso dell'anno. E ovviamente se voleste contattare le nostre colleghe del comitato ne saranno più che felici. Quindi io vi ringrazio moltissimo per avermi ascoltato e a questo punto lascerei la parola al professor Mitro per entrare nel vivo della lezione. Grazie mille a tutti. Allora, innanzitutto permettetemi di fare dei ringraziamenti prima di incominciare. Io sono Nico Mitro, sono docente universitario all'Università di Studi di Milano. Volevo innanzitutto ringraziare AIRC per questa possibilità, molto interessante. Per me è la prima volta, quindi sono molto lieto di cogliere questo invito. Nicola per l'ospitalità molto, molto generosa presso questa università. Allora ragazzi, io sono abituato, come molti docenti, a vedere molti di voi. E mi piace molto fare sempre una lezione informale. Quindi qualunque io vi farò delle domande, voi dovete sentirvi liberi di rispondere perché siamo qua tutti per imparare. Fare lezione non è solo il docente che insegna, ma è anche ricevere dagli studenti. quindi partiamo con una prima domanda. Qual è, per capire bene che cos'è il metabolismo, quali sono le due funzioni fondamentali che noi facciamo ogni giorno? Secondo voi? Due funzioni che dovete assolutamente fare, altrimenti non potreste vivere. Una qual è? Respirare, giusto. La seconda? La seconda qual è? Vero, mangiare. Perché? La domanda è perché voi fate questo? Perché facciamo questo? Uno dice perché sono non vivo. E certo, ovvio. Ma perché? Prima si parlava di bioreattori, no? Il nostro organismo è un grande bioreattore, fatto da tanti piccoli bioreattori, che sono le nostre cellule che compongono i vari tessuti. E le cellule cosa fanno? Utilizzano l'ossigeno che arriva dai polmoni, utilizzano i nutrienti che arrivano dal cibo per fare cose, per produrre energia. Lo scopo primario è quello di produrre energia. Ragazzi, un'automobile, una candela che si brucia, fa esattamente la stessa cosa. La candela, la cera, è il combustibile, no? È il nutrimento. La fiamma brucia la vostra cera solo se c'è ossigeno. Se mettete sopra una campana l'ossigeno lo togliete, la candela si spegna. Il nostro organismo è uguale, funziona allo stesso modo. In ogni cellula succede questo. Noi accoppiamo il consumo di ossigeno, producendo acqua, per bruciare dei nutrienti. Siamo tutti d'accordo su questo? Questo è vero in tutti i tessuti. Da biochimico vi direi, tranne in uno, che è il tessuto adiposo bruno. Sapete a cosa serve il tessuto adiposo bruno? Il tessuto adiposo bianco è questo, no? Io sono un estimatore, come potete vedere. Il tessuto adiposo bruno che cos'è? E dov'è? È un organo che non esiste? No, no, esiste, esiste. Allora, nei bambini neonati, e qui faccio un consiglio alle mamme future, non dovete coprire i vostri figli quando fuori ci sono meno cinque. Perché? Perché il bambino si autoregola. La sua temperatura corporea è sempre più alta. Perché? Perché ha un sacco di tessuto adiposo bruno che nel neonato sta qua dietro. Ok? In questo tessuto che cosa succede? È molto ricco di alcuni organelli, che a breve vedremo, che si chiamano mitocondri, che bruciano il nutriente in presenza di ossigeno, ma invece che produrre tanta energia, molta di questa energia viene dissipata per produrre cosa? Calore. Un processo noto come termogenesi. Il tessuto adiposo bruno è fondamentale dentro di noi perché ci aiuta a mantenere la temperatura corporea corretta. Ok? Quando usciamo al freddo, si attiva. Ok? Altrimenti la nostra temperatura corporea calerà. Ora, non voglio entrare nel processo biochimico totale perché non è questo il punto, però ricordatevi che noi utilizziamo i nutrimenti e l'ossigeno per produrre energia. Quindi, il metabolismo è fatto fondamentalmente da tutte quelle reazioni chimiche che ci permettono di sopravvivere. E in particolare si divide in due grosse aree. Il catabolismo, cioè la demolizione di alcuni nutrienti per produrre energia, ma soprattutto quello che viene chiamato l'anabolismo, cioè la costruzione di alcuni piccoli mattoncini che ci permettono, per esempio, di replicare le cellule o perlomeno quelle cellule che possono essere replicate. Ok? Uno dice cos'è il metabolismo? È questo. Queste sono tutte le vie metaboliche che avvengono in una cellula. Sembra di vedere la metropolitana di Londra. Eh, ma guardate che non è molto diverso. Io per andare da un punto all'altro, cioè da un metabolita o un nutriente a un altro, ho dei passaggi obbligati. Seguo la metropolitana. Ok? Che cosa succede? Ognuno di questi punti è un metabolita. Per convertire questo metabolita in quest'altro c'è di mezzo una proteina che si chiama enzima. Se quell'enzima non funziona bene, il metabolita successivo non viene prodotto e a volte ci possono essere dei problemi. Dicevo che gli organelli fondamentali nel metabolismo sono questi che si chiamano mitocondri. Ok? I mitocondri sono tanti e sono la centrale energetica della cellula. Cosa fanno? Fanno esattamente quello che vi ho detto. Prendono lo zucchero, gli acidi grassi o gli amminoacidi, li degradano per produrre energia. Salvo il tessuto adiposo bruno che abbiamo visto fa termogenesi. Ora, il mio laboratorio, i ragazzi che lavorano con me, sono molto interessati a questi organelli. Perché? Perché questi organelli hanno un ruolo fondamentale nella fisiologia. Sono la centrale energetica della cellula. Ok? Sono coinvolti nel differenziamento cellulare, cioè quando una cellula da staminale diventa una cellula differenziata, se non fate funzionare i mitocondri, quel differenziamento non avviene. Sono importanti nella morte cellulare programmata, cioè quando una cellula non ce la fa più, è sotto stress, decide di morire. Ok? Questo fenomeno si chiama apoptosi. E sono fondamentali nell'invecchiamento, se consideriamo l'invecchiamento un processo fisiologico e non patologico. Ma negli ultimi anni questi organelli hanno un ruolo anche in diverse patologie. Quali? Ci sono patologie che colpiscono direttamente questi mitocondri e queste possono essere acquisite o ereditari. Sono coinvolti nello sviluppo del cancro, sono nello sviluppo di diabete e obesità e nella neurodegenerazione. Quindi, come vedete, giocano un ruolo più o meno in tutte le maggiori patologie. Allora, di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlerò molto da vicino del ruolo dei mitocondri in che cosa? In una patologia che è un tumore che si sviluppa nel fegato e che si chiama carcinoma epatocellulare. e poi vedremo nella seconda parte invece il ruolo del metabolismo nel ruolo della metastatizzazione del tumore alla mammella. Allora, partiamo con la prima parte. Allora, che cos'è il carcinoma epatocellulare? Beh, è una patologia che colpisce il fegato. Di solito si sviluppa insieme ad altre patologie per esempio la cirrosi o per esempio infezioni da virus di epatite. Qual è il problema? È che il tumore primario del fegato 75-85% dei casi ma una prognosi terribile cioè dopo 5 anni della diagnosi del tumore solo il 16,6% dei pazienti riesce a sopravvivere. Quindi è necessaria una cura. Ok? E questo è quello su cui è focalizzato il progetto che AIRC ci ha finanziato. In questo tipo di tumore avviene nel fegato e uno dice ma quindi sono cellule epatiche? Sì, sono cellule epatiche che a un certo punto impazziscono e fanno altro. E cosa fanno? Fanno un metabolismo diverso da quello che deve fare il fegato. E che tipo di metabolismo fanno? Fanno su un gran casotto perché iniziano a diminuire la produzione di ATP ad aumentare un sacco la sintesi dei trigliceri degli acidi grassi cosa che il fegato normalmente fa ma in questo caso è drammaticamente elevata. Utilizzano un sacco di glucosio quindi hanno un metabolismo che è peculiare che non è quello classico del fegato ma che serve al tumore per svilupparsi e crescere. Allora ad oggi il trattamento di lezione per i pazienti è quello di utilizzare l'immunoterapia che cos'è l'immunoterapia è utilizzare degli anticorpi che sono delle proteine che vengono iniettate dall'esterno che vanno sulle cellule tumorali passate nel termine molto semplice le riconoscono e le uccidono. Ok? Però molte volte questa immunoterapia pur essendo la prima linea di intervento non funziona e allora bisogna fare un secondo trattamento che è con questa molecola che si chiama sorafenib adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio ma questa molecola è quella che di solito viene associata in quei casi in cui l'immunoterapia non funziona. Purtroppo però alcuni soggetti sviluppano resistenza a questo sorafenib e allora noi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo detto visto che il metabolismo è coinvolto nello sviluppo del tumore e se facciamo qualunque trattamento non abbiamo un successo al 100% possiamo trovare dei nuovi bersagli che possiamo eventualmente utilizzare per sviluppare nuove terapie contro questi tumori. e allora abbiamo preso una cellula di tumore di questo epatocellular carcinoma o carcinoma epatocellulare e siamo andati a vedere quanto è resistente a questa molecola ed è molto resistente. Qui vedete una curva questa è una curva classica dose risposta è una curva da farmacologo che cosa vuol dire? Vuol dire che voi per ammazzare il 50% di cellule presenti in una piastra dovete usare questa concentrazione di farmaco che è una concentrazione molto alta quindi vuol dire che queste cellule non muoiono con questo farmaco e allora il nostro goal qual è? C'è scritto qua investigare il ruolo dei mitocondri nel determinare la resistenza a questa molecola cioè perché queste cellule diventano resistenti l'abbiamo già detto perché hanno un metabolismo particolare allora abbiamo preso queste cellule questa è un'immagine delle nostre cellule una cellula è questa questo è il suo nucleo che lo vedete in blu e tutto attorno vedete i mitocondri ok? lasciate stare i DMSO qui sono cellule che non hanno subito nessun trattamento ok? vedete che i mitocondri si vedono molto bene sono belli tutti intorno al nucleo cosa succede quando trattiamo le cellule con questa molecola e diventano resistenti beh i mitocondri iniziano ad essere un pochino più torbidi non sono più nitidi come erano prima questo vuol dire che si stanno rompendo e perché si stanno rompendo? perché sta cambiando il metabolismo della cellula allora come facciamo a investigare il metabolismo? allora vi faccio guardare questo video perché è in inglese poi lo tralunco non vi preoccupate mi fa vedere come potete studiare il metabolismo sfruttando che cosa? il consumo dell'ossigeno perché vi ho detto prima il consumo dell'ossigeno che viene utilizzato dai mitocondri per produrre energie insieme ai nutrienti vi permette di capire il metabolismo di quella cellula guardiamoci un attimo questo video lo dico io allora questa è la piastra dove voi mettete le vostre cellule adesso vedete? qua voi potete seminare le vostre cellule ok? potete seminare cellule e altre cose stiamo sulle cellule dopodiché applicate sopra la piastra questo sistema che vi permette di consumare di misurare il consumo di ossigeno se fermate ok grazie ok cosa succede? succede che lo strumento manda dentro questa sonda in ogni pozzetto questa sonda ha qui dei florofori uno che è sensibile all'ossigeno cioè se c'è ossigeno si colora e tramite una fibra ottica manda il segnale al computer che registra il segnale vedete? in ogni pozzetto entra il sensore arriva fino in fondo a un'altezza massima di 200 micrometri quindi è proprio attaccato alle cellule qui c'è il sensore per l'ossigeno e qui invece c'è il sensore per un'altra molecola che è tipica dei tumori che si chiama lattato ok? quindi lo strumento misura allo stesso tempo quanto ossigeno viene consumato e quindi quindi voi capite come sta funzionando quel mitocondrio e quanto lattato viene prodotto cos'è il lattato? il lattato è un prodotto che non viene generato dal mitocondrio ma da una reazione biochimica diversa ok? ci siamo su questo? questo strumento vi permette di fare un'analisi cinetica di come avviene il consumo di ossigeno nelle vostre cellule ok? questo è quello che sta dicendo il signore che parla quello che potete fare potete anche aggiungere se volete dei farmaci mentre fate l'analisi per vedere se quel farmaco influenza uno dei due parametri che state misurando glucosio cellula normale glucosio entra diventa piruvato va nel mitocondrio con l'ossigeno mi produce CO2 e ATP questo è quello che avviene nelle nostre cellule adesso in questo momento cosa succede in una cellula di questo tipo in una cellula di questo tipo il glucosio entra viene prodotto il piruvato ma per qualche motivo questi organelli non funzionano più e quindi che cosa succede che questo piruvato prende un'altra via che è quello di produrre questo lattato lattato che viene buttato fuori e favorisce la proliferazione cellulare quindi si viene a creare un circolo vizioso per cui le cellule tumorali catturano molto più glucosio rispetto a quelle normali classico modo per diagnosticare un tumore solido qual è? provate a immaginare qual è? è dare del glucosio e andare a vedere con la PET dove si localizza in quale organo se si localizza in un punto specifico vuol dire che in quell'organo lì c'è una cellula tumorale o c'è una massa tumorale ok? la PET o anche alcune risonanze vi permettono di diagnosticare se c'è o meno un tumore in un certo tessuto d'accordo? allora perché ci siamo interessati a questa cosa? beh prima di tutto perché c'è una disfunzione del mitocondrio e a noi questo interessa secondo perché i mitocondri sono organelli molto complessi e a noi le cose complesse placciano ok? sono molto complessi perché questi organelli prendono contatto sia con il nucleo della cellula ma anche con altri organelli all'interno della cellula e con questi parlano in qualche modo e soprattutto ci siamo interessati a questo perché non esistono terapie che curano che cosa? in generale la disfunzione mitocondriale per i soggetti che hanno una mutazione a livello della catena di trasporto degli elettroni nel mitocondrio non c'è cura ci sono solo cure palliative quindi trovare qualcosa che fa funzionare meglio il mitocondrio permette di trovare una cura la prima domanda che ci siamo fatti e qui vado indietro al 2006 quindi questo lavoro parte dal 2006 non da ieri ci siamo chiesti ma i regolatori dei mitocondri siamo sicuri che li conosciamo tutti? perché all'epoca nel 2006 più o meno ce n'erano una quindicina per regolatori cosa intendo? intendo tutte quelle proteine che servono a far funzionare bene i mitocondri ok? allora per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un minimo di biochimica quanti genomi ci sono in ogni nostra cellula? due uno a livello del nucleo il DNA e l'altro a livello del mitocondrio voi sapete da chi si ereditano i mitocondri? dalla madre giusto? perché? proviamo a dire perché? qualcuno ha qualche idea? eh? allora in realtà il perché non lo si sa ancora ci sono diverse ipotesi ci sono dei lavori che hanno dimostrato che è possibile ereditarli anche dal padre ma sono molto questionati in letteratura non tutti ci credono in realtà la questione è questa una cellula uovo femminile ovviamente è molto ricca il mitocondrio lo spermatozoo quando la feconda in realtà i mitocondri che ha li ha quasi tutti nella coda perché? perché devono fare tanto ATP per permettergli di muoversi quando entra la testa che feconda l'uovo in realtà trasmette il suo DNA ma pochissimi mitocondri quindi la teoria più accreditata è una questione di quantità di numero di copie di mitocondri presenti nella madre rispetto a quelli presenti nel padre però il perché questo avvenga non è ancora del tutto chiaro quello che è chiaro è che se la mamma ha una patologia mitocondriale bisogna fare molta attenzione perché la progenie potrebbe avere la stessa patologia ok? oggi ci sono modi per bypassare questo tutto questo per dirvi che il mitocondrio ha un suo DNA che si chiama DNA mitocondriale sapete di che origine è? batterica e perché una cellula eucariotica si è pigliato un DNA batterico? così ovviamente perché ne ha tratto un vantaggio ok? sapete quante proteine codifica un DNA mitocondriale? è piccolo sono 17.000 paia di basi gli DNA nucleari sono miliardi di paia di basi questo codifica 6 proteine solo 6 è un DNA nudo cioè non è organizzato in cromosomi non è complessato con gli stoni quindi non è protetto se io oggi facessi un prelievo di sangue a chiunque qua dentro e vado a vedere le mutazioni sul DNA genomico fra 10 anni sono completamente diverse perché non è un DNA in grado di fare riparo ok? infatti c'è tutta una disquisizione se questo è il DNA che ci permette di invecchiare ok? allora ragionando su questo sistema uno dice ma quindi è il mitocondrio io ho 6 proteine eh no ne hai 2000 e le altre 1994 da dove arrivano? da qua ok? ma se io ho una mutazione in una proteina del DNA mitocondriale ho una patologia ci siamo e anche ovviamente in alcune del DNA nucleare quindi prima di trovare nuovi regolatori mitocondriali abbiamo detto ok ci serve un sistema che ci permetta di trovare i nuovi regolatori mitocondriali e allora cosa abbiamo fatto? esiste una proteina che la vedete qua indicata che si chiama fattore di trascrizione A per i mitocondri che cosa vuol dire? che è una proteina che è codificata dal DNA genomico quindi dal nucleo della cellula il suo mRNA esce va nel citoplasma viene tradotto viene fatta la proteina va nel mitocondrio e questa proteina cosa serve nel mitocondrio? serve a replicare il DNA mitocondriale e a trascrivere l'mRNA per fare le proteine mitocondriali se io vado a togliere questa proteina non esiste vita quindi vuol dire che questa proteina è fondamentale per la funzionalità dei mitocondri adesso non vi perdete seguitemi cerco di renderla semplice quindi capite che se io trovo qualunque proteina che induce questa proteina ad essere prodotta io ho trovato dei regolatori mitocondriali siamo tutti d'accordo? sì o no? cioè se io trovo una qualunque cosa che mi aumenta i livelli di questa proteina vuol dire che avrò più mitocondri sì o no? siamo tutti d'accordo? bene questo è quello che abbiamo fatto come l'abbiamo fatto? utilizzando tecniche scusate qui entro un po' nel dettaglio di biologia molecolare che cosa vuol dire? una proteina la sua espressione la sua produzione è regolata a livello del DNA da una porzione che si chiama promotore cioè una porzione di DNA dove si legano tante altre proteine che aumentano o diminuiscono la sua espressione ok noi in laboratorio abbiamo clonato questa porzione di DNA e l'abbiamo messa di fronte a un gene che si chiama luciferasi quindi stiamo un po' fregando le cellule cioè gli ho preso solo il promotore e gli ho detto invece di fare la proteina Tfam fammi la luciferasi perché? perché la luciferasi è un enzima che se io gli do un particolare substrato produce luce ok? avete in mente le lucciole quelle che si vedono nei prati? come fanno a fare la luce? o questa enzima qua? ok? hanno il substrato ed esprimono questa enzima qua e lo fanno in un particolare periodo dell'anno in cui producono il substrato per fare la luce che è il periodo dell'accoppiamento ok? quindi i ricercatori hanno detto ah bello il suo sistema quindi io non faccio altro che prendere il mio promotore metterlo di fronte a questa proteina quindi quando il promotore funziona di più viene fatta più luce dalla cellula quando funziona di meno ne fa di meno e quindi abbiamo valutato il ruolo di 16.000 proteine per trovare tutte quelle che aumentano o spengono l'attività di questa proteina allora dobbiamo complicarci ancora un attimo la vita abbiamo 259 regolatori mitocondriali che possono avere un ruolo nel tumore al fegato ok? come facciamo a studiare tutti insieme? con un sistema che ha permesso di vincere un premio Nobel qualche anno fa che è questo che si chiama un nome terribile CRISPR-Cas9 chi se ne importa ma è un sistema di genome editing che cosa vuol dire? che io posso modificare il genoma come voglio ok? basta avere una proteina che è questa che vedete in giallo che si chiama Cas9 e quello che viene chiamato questo in verde RNA guida cioè un pezzo di acido nucleico a singola elica che quando è presente Cas9 va sul DNA lo srotola trova il pezzo complementare e taglia quel gene e quindi cosa fa questo sistema? rielimina il gene dalla cellula ok? è chiaro? qual è l'idea che stiamo sviluppando? abbiamo preso i nostri epatoblasti che sviluppano tumor gli facciamo esprimere la proteina Cas9 che ci serve per fare il taglio e poi infettiamo le nostre cellule con tutti gli RNA guida per i 259 regolatori mitocondriali ok? le cellule vengono selezionate ma non è importante dopodiché vengono piastrate e trattate o con il veicolo cioè con niente o con il nostro sorafenib d'accordo? ora il sorafenib cosa fa di suo? induce resistenza siamo d'accordo? per quanto tempo le trattiamo? per sette giorni che cosa succede in questi sette giorni? che noi stiamo il sistema sta togliendo i geni dei 259 no? quindi noi abbiamo una popolazione iniziale dove li toglie magari tutti magari no è una popolazione dove non sappiamo che cosa succede giusto? dopo i sette giorni di trattamento siccome il sistema di editing lavora a livello del DNA noi estraiamo il DNA estraendo il DNA con un sistema molto particolare non voglio scendere nel dettaglio io posso andare a quantificare se il mio gene rispetto a questa condizione qua quindi tutti i 259 se è aumentato o se è diminuito questa era la prima parte passiamo alla seconda sull'interazione tra tessuto adiposo e cellule di tumore e cellule di tumore alla mammella avete domande su questa prima parte? fatele non esistono domande stupide se avete domande nessun problema domande su questa prima parte? qualcosa che non è chiaro? no? bene allora vediamo invece la relazione metabolica che c'è tra il tessuto adiposo e il tumore alla mammella allora tutti i tumori si sviluppano perché c'è una mutazione una o più mutazioni e questo è vero anche per il tumore alla mammella è chiaro che la diagnosi di un tumore allo stadio in cui è ancora nella porzione epiteliale è meglio di uno stadio in cui ha invaso altre cellule però il tumore alla mammella cosa fa? proliferando a un certo punto rompe quella che viene chiamata la membrana basale e lo fa sempre e cerca di andare a prendere contatto con delle cellule particolari che sono esattamente come queste cellule di tessuto adiposo ok? che sono presenti nella ghiandola mammaria la nostra domanda è stata perché lo devono fare? perché se non lo fanno non metastatizza sapete cosa vuol dire metastatizzare? vuol dire che si muove dalla mammella la cellula migra e va a colonizzare il fegato i polmoni o altri tessuti d'accordo? e quindi rende il tumore ancora più difficile da trattare quindi il nostro scopo è capire perché succede questa interazione perché deve avvenire questa interazione perché se noi potessimo impedire questa metastatizzazione in realtà potremmo rendere il tumore ancora più curabile ok allora cosa ci dice la letteratura la letteratura ci dice che le cellule di tumore alla mammella devono prendere contatto con gli adipociti perché secondo voi a cosa serve una cellula adiposa cioè noi perché abbiamo le cellule adipose a cosa servono? bravissima come riserva energetica e quindi la gente cosa ha detto? beh ha lo stesso ruolo che ha il tessuto adiposo bianco è una riserva energetica quindi prendono contatto perché lì c'è tanta energia e questa è un'ipotesi c'è un problema però tutti coloro che hanno fatto questi studi li hanno fatti in vitro che cosa vuol dire? riproducendo in un sistema in laboratorio quello che teoricamente accade in una mammella in presenza di tumore e quindi cosa hanno fatto? hanno preso degli adipociti delle cellule mesenchimali che potete differenziare ad adipociti e le hanno messe a contatto con chi? con le cellule di tumore alla mammella in particolare un particolare tipo di tumore molto aggressivo e hanno visto che effettivamente questi adipociti perdevano gli acidi grassi e i trigliceridi ok? quindi hanno concluso beh succede esattamente questo e uno dice ma sei già stato scoperto perché tu ti sei messo a fare sta roba perché c'è un piccolo problema che è il seguente prima cosa siamo sicuri che il modello di preadipociti cioè cellule che vengono differenziate con un particolare cocktail in una certa situazione sono uguali a quelli che sono a livello della mammella prima domanda seconda che è ancora più importante questi modelli cellulari che si chiamano 3T3L1 e Tentisena Half ma chi se ne importa sono di origine maschile cioè quindi tu mi stai mettendo a contatto dei preadipociti derivati da un maschio che differenzia da adipociti maturi con delle cellule che fanno tumore alla mammella proveniente da femmina siamo sicuri che è la condizione migliore e allora abbiamo deciso di investigare questa cosa cosa abbiamo fatto purtroppo qui abbiamo dovuto utilizzare gli animali da cui abbiamo prelevato maschi e femmine da cui abbiamo prelevato il tessuto adiposo sottocutaneo quello vicino alla mammella abbiamo digerito questo tessuto qui in alto trovate gli adipociti maturi che abbiamo preso e li abbiamo messi su questa specie di piccolo inserto che poi si inserisce in un pozzetto quello che vedete in rosa è il terreno di cultura per mantenerli e li abbiamo mantenuti per 7 o 14 giorni abbiamo preso quelli di maschio abbiamo preso quelli di femmina abbiamo preso il modello di preadipociti quello che tutti quanti usano allora questi sono i preadipociti guardate l'immagine questi sono quelli derivati da maschio i nostri mi sembrano uguali a me sembrano drammaticamente diversi questi sono quelli di femmina ancora diversi e come vedete c'è una bella differenza tra quelli di maschio e quelli di femmina attenzione il tumore alla mammella si sviluppa anche nel maschio è l'1% dei casi di tutti i tumori alla mammella mondiali però c'è ed è anche molto più aggressivo di quello femminile perché è più difficile da diagnosticare e siamo andati a utilizzare la cosiddetta metabolomica che è una parolaccia anche questa a cosa serve va a misurare i livelli di metaboliti cioè di quei famosi nutrienti che fanno parte di tutte le vie metaboliche vi ricordate il grafico come questo che avete visto all'inizio tutti questi pallini siamo andati a quantificarli utilizzando la spettrometria di massa che è una metodica analitica che vi permette di identificare l'identità di alcune molecole che vi interessa cosa abbiamo fatto abbiamo fatto ancora un'analisi metabolomica ma questa volta di che cosa di queste cellule che sono state a contatto o con gli adipociti maschi o con gli adipociti femmina o con niente allora se vi faccio vedere la principal component analisi qui vedete le cellule che non sono state a contatto con niente ogni pallino è un replicato e in rosso vedete le cellule di tumore alla mammella che sono state a contatto con gli adipociti femmina qui quelle che sono state a contatto con gli adipociti maschi quindi vuol dire che il loro metabolismo cambia a seconda di quali adipociti vengono esposti se faccio l'analisi trascrittomica quindi delle proteine che verrebbero tendenzialmente prodotte tra le cellule di tumore alla mammella femmina a contatto con gli adipociti maschi che cosa vedo visto che catalabolizzano di più gli acidi grassi vedo un aumento dell'attività dei mitocondri e l'aumento della capacità di detossificazione perché quando io attivo i mitocondri ragazzi produco anche più specie reattive dell'ossigeno ok se io faccio funzionare il problema di far funzionare troppi mitocondri qual è? è che si producono troppe specie reattive dell'ossigeno e quindi le devo detossificare per cui se io aumento l'attività dei mitocondri devo anche detossificare di più chi metastatizza di più? l'analisi trascrittomica fatta cellule tumorali femmina con adipociti maschi non ci ha dato nessun risultato quando facciamo l'analisi trascrittomica cioè andiamo a vedere quelle proteine che possono essere coinvolte in alcune vie e mettiamo le femmine con cellule di tumore da femmina con adipociti da femmina vediamo che solo in questo caso c'è un aumento di tutte le vie che portano alla metastatizzazione se vi interessa qua vi ho lasciato i siti internet dei due laboratori uno in università e l'altro presso il distrito europeo di oncologia qui ci sono i ringraziamenti classici vi ringrazio tutti per l'attenzione se avete domande e badisco non esistono domande stupide quindi se ci sono domande non vi preoccupate sono qui per rispondere altrimenti io ho finito e vi ringrazio grazie grazie